ben ritrovato umile trofe hunters qui guerra nera aga enzo di nardo e oggi non vi porterò una guida all'ottenimento del trofeo platino ma bensì vi porterò lo spacchettamento l'unboxing di questo fantastico team di moltres di galar ovviamente dell'espansione di zenith regale e bello chiuso usciranno quattro bustine e ovviamente il tutto lo farò in compagnia di mio fratello smilzo il buon smilzo eccolo il buon smilzo ok ho preso anche un'altra telecamera per poter fare proprio l'unboxing fatto bene e vi portiamo questi tipi di contenuti perché ho pensato già che stiamo io e mio fratello tornando ad acquistare carte pokemon e quant'altro mi son detto ma perché non portare una serie di unboxing di pack opening e di unboxing anche più corposi di team e quant'altro in modo che per chi comunque non può acquistarvi o perché sono costosi o perché al momento non hanno la disponibilità o quant'altro può vedere da noi l'unboxing e godercelo insieme insomma a vedere il tutto insomma un po' che succede con questi pack opening pulleremo? vediamo allora tra l'altro uscirà da questo pack opening si aprilo assolutamente uscirà un moltres di galar ovviamente quindi uscirà un moltres di galar e usciranno quattro bustine le bustine quali saranno? tutte zenith regale tutte zenith regale perfetto quindi quattro di zenith regale eccolo ragazzi fai vedere il laterale laterale cioè sotto c'è articuno qua articuno dall'altro lato articuno ovviamente di galar perché sono i tre uccelli leggendari ma versione galar e quindi io direi andiamolo a unboxare inizia ad aprire tu mettiamo la telecamera da qui così che vedrete il tutto in questo modo come si vede da qua perfetto bellissimo moltres così ragazzi avvicinava la telecamera? si 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 il codice lo facciamo dire così che bellissimo allora qui le quattro bustine e io direi di iniziare quante carte usciranno da dentro? 10 quante ne dobbiamo spostare dietro? 4 o 5? 4 4 con queste bustine ragazzi allora metteremo quattro carte dietro in modo da godirci diciamo se pulleremo le carte più rare ce le godiamo insomma alla fine di ogni bustina io direi vai Ale allora spacchetto come c'è? vai io sono stra curioso ragazzi tra l'altro quanto costa questo 28,90 euro ok non so se sta anche su Amazon ma nel caso controllo e vi metto eventualmente il link noi abbiamo pagato 28,90 come lo vediamo su Amazon credo sia girerà intorno a quel prezzo assolutamente sì vedi nella telecamera quanto si vede bene energia ok amici ai sui ok aspiratore perduto ok mamma che chiama? facciamoci caso muzzo lanciato vai mettiamo metti più luce ok no non spoilerarla vidus ok pozione qua allora allora questi pacchetti o si trova una full art dietro avvicinati avvicinati qua qua si trova una gallery a basso avvicinati qua ok oppure si trova cioè dietro la gallery si può trovare alla carta quindi possiamo pullare qui come no ok proviamo proviamo a vedere se pulliamo e va vai a vedere full paras paras bellissimo full art art gallery ah peccato peccato fai vedere bene paras bellissimo che poi si completi tutte queste carte art gallery completi un quadro ah si completa un quadro con tutte le carte art gallery interessante no no aprirle continua ad aprire così anche perché se no dobbiamo spostarci al limite facciamo che tu vai l'addetto allo spacchettamento e io sono vicino al microfono ma nel caso ci fate sapere voi se vi piace come andazzo e tra l'altro noto che Alex in questo modo copre anche aspetta così c'è più più e più luce probabilmente vai metan bellissimo vai cambio di energia crocorock crocorock simpaticissimo bastoi miau di galar bellissimo miau miau la pronuncia in mio fede è fantastica cinx ok colfish e poi dietro una reverse reverse e uno snorlax normale no way e voglio dire il pull pesante vediamo dai credo in ti credo in te nel cuore delle carte vai a dire il codice vai il codice si anche l'altra non ne faccio dire però dire al volo però devi prendere bene deve essere ok ok vai perfetto si è visto raga così se voi giocate da computer a pokemon potete poi inserire il codice ralat caramella rara dusk yamma tauria soccolosis allenatore oh oh mr mine dietro un bello somreverse bello somreverse e non c'è ah non c'è il pull no way oh tre bustine alla fine vabbè ci sono tre reverse quante ne andavamo preso 3 reverse per ora però nessun pull bello corposo bello corposo speriamo speriamo nell'ultima bustina anche perché sono quattro bustine vediamo dai abbiamo visto delle optine qua l'ha aperto al contrario vai 3 4 let's go vediamo un po' energia energia logorock lunaturno e soulrock shinx shinx fancam moro allenatore firmata allenatore firmata oh regigas oh regigas v regigas v oh questo qua quando giocavo aspetta questa era pokemon zaffiro e no aspetta che pokemon era quello con grudon e chiugre raga se era viastro valeva molto si eh questa qua viastro una dei dei tre leggendari wow allora ragazzi abbiamo aperto questo pin di moltres di galar poteva andarci sicuramente meglio col pull abbiamo trovato regigigas regigigas v poteva uscirci qualcosa di più carino qualche reverse il paras pure molto caruccio per creare il quadro ah vero pure allenatore firmata allenatore firmata poi tra l'altro quando è firmata prende più valore diciamo è un'aggiunta è una particolarità di zenith regale si sta solo su zenith regale o sabre ah solo su zenith regale ok vabbè poi nel caso ci fate sapere anche voi e ragazzi io vi faccio sapere poi non so se ci sta pure su amazon nel caso ve lo metto in descrizione e lo cercherò e vi faccio sapere fateci sapere se vi piace come contenuto io ho promesso diciamo un po' anche a me stesso che un giorno prenderò la playstation 5 e continuerò anche a fare i video di trofei platino ma per ora per non lasciare il canale e per stare comunque insieme ho pensato è comunque un contenuto nerd di un qualcosa che a me e mio fratello piace quindi di conseguenza cercherò di portarlo ogni qualvolta usciranno i team nuovi o comunque i box nuovi cercherò di portarli sul canale così che li condivideremo insieme insomma si queste sono le nostre nuove bimbe e uno il buon paras ovviamente lui moltres la carta allenatura è firmata e basta così ahimè peccato perché potevamo trovare qualcosa di meglio ma va bene così ci sta e a questo punto ragazzi la parte mia è di smilzo ci vediamo nel prossimo video alla prossima smilzo fai un saluto tuo e a presto raga un abbraccio e a prestissimo ciao raga ciao